Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale bilancio regionale 2017, due assenti e qualche scontento nella compagine di maggioranza ma alla fine il centro-sinistra dà il via libera al maxiemendamento che giovedì sarà discusso in consiglio. Non hanno partecipato Massimiliano Scarabbeo come aveva preannunciato e Michele Petraroia che aveva un altro impegno alla riunione, intanto la minoranza di centro-destra già promette battaglia in aula. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Bilancio regionale passa nel gruppo di maggioranza con due assenze pesanti, quella di Scarabbeo e quella di Petraroia, la proposta di maxiemendamento alla manovra finanziaria per il 2017. L'ex assessore alle attività produttive e l'ex assessore al lavoro non hanno partecipato alla riunione convocata da Frattura Palazzo Vitale, Massimiliano Scarabbeo, perché in disaccordo sull'impostazione data al bilancio della giunta Frattura e Petraroia perché impegnato in un'altra riunione. Ma è abbastanza scontato che difficilmente voteranno in aula a favore del maxiemendamento, una formula voluta da Frattura per evitare colpi di mano. Infatti è stata scelta questa procedura per tagliare le ali a qualunque proposta o idea di variazione delle poste in bilancio. In sostanza con questo passaggio si è o dentro o fuori, il che tradotto in soldoni significa che o passa il maxiemendamento o si va tutti a casa per il conseguenziale immediato scioglimento del Consiglio regionale. Un'ipotesi abbastanza lontana dalla realtà, ma sicuramente l'aria che tira in maggioranza non è delle migliori. I malcontenti sono tanti, legati sia al mancato allargamento della giunta, che resta ferma a tre assessori, sia alla intoccabilità di un bilancio che è praticamente ingessato. Senza dimenticare la nuova legge elettorale regionale, una promessa fatta da tutti, ma dimenticata da tutti. Insomma, prevista burrasca in Consiglio regionale giovedì prossimo con Michele Ori e il centrodestra, che hanno già preannunciato la loro opposizione. Ma vediamoli un po' i numeri del bilancio. La manovra è pari a 1 miliardo e 750 milioni di euro, a cui bisogna sottrarre 319 milioni come fondo di accantonamento, per un importo complessivo di 1 miliardo e 419 milioni. Gli importi trasferiti dallo Stato sono pari a 719 milioni per la sanità, 32 milioni per i trasporti, 25 per l'ambiente, 58 per la quota annua del fondo di coesione e sviluppo, 9 milioni per le politiche sociali, 6 per i finanziamenti europei e 815 mila euro tra fondi per la cooperazione. Sottratti ratei per i debiti pregressi restano 100 milioni di euro, destinati tra l'altro per 38 milioni agli stipendi del personale, 10 milioni agli enti subregionali, 1,8 milioni tra Molise, dati e altri servizi informatici, 2 milioni ad altri enti e Fondazione Molise Cultura, 2,3 milioni all'avvocatura, 550 mila euro alla protezione civile, 5,7 milioni al Consiglio regionale e 4,7 milioni all'aggiunta. Da sottolineare che l'avvocatura costa quattro volte una protezione civile smantellata e depotenziata, che è solo uno sbiadito ricordo di quella efficiente organizzazione per le emergenze, messa in piedi qualche anno fa. Lavoro, trasporti, viabilità, riordino della sanità sociale, con robuste misure contro la povertà, agricoltura, sono le priorità, secondo il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Francesco Totaro, da cui partire nella predisposizione del bilancio, proposte inderogabili, ha detto l'esponente della maggioranza, redigere un bilancio pensando di sottovalutare queste istanze, significa voler lasciare i risolti problemi del Molise, sono i punti cardine, grazie ai quali se verranno rispettati e portati a termine, sicuramente, ha concluso Totaro, non farò mancare il mio apporto e la conferenza dei capi gruppo ha deciso che la seduta del Consiglio regionale per esaminare e approvare i documenti economico-finanziari si terrà, appunto, giovedì pomeriggio, a partire dalle 15.30 nella mattinata, sempre del 26, dalle 10.30 l'Aula invece tratterà gli argomenti che non sono stati discussi nell'ultima seduta, quella del 17 gennaio. Su proposta del Presidente Cotugno, poi la conferenza dei capi gruppo ha deciso che i consiglieri devolveranno una somma di 1.000 euro ciascuno sul conto corrente dedicato dalla conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali per il sostegno alle aree del centro Italia interessate dal terremoto. Lance Molise, l'associazione dei costruttori edili aderente a Confindustria, interviene sulla ricostruzione post-terremoto chiedendo alle istituzioni e alla regione in particolare che i pagamenti alle imprese siano effettuati senza ritardi per evitare gravi e ulteriori danni per imprese e lavoratori. Sentiamo. L'edilizia è uno dei settori più colpiti dalla crisi e imprese e associazioni da tempo chiedono maggiore attenzione. Un settore considerato trainante che si dibatte in mille difficoltà anche burocratiche. L'associazione dei costruttori edili aderente a Confindustria ha lanciato un forte monito alla regione. Nonostante gli sforzi con quanto varato da Fin Molise l'anticipo di liquidità per sopperire ai mancati pagamenti alle imprese, la situazione resta gravissima, ha spiegato il presidente del Lance Molise, Umberto Uliano. Ci sono ancora ritardi nel pagare i lavori. Il Molise è ancora indietro, ha spiegato i pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione per la ricostruzione post-sisma. Sono fermi da quasi un anno e quanto messo a disposizione dalla regione arriverà a marzo. Uliano ha evidenziato come le imprese non possono anticipare soldi perché non ne hanno più e non possono più aspettare una situazione grave e complessa che, secondo Lance, riguarda non solo la ricostruzione. La nostra disponibilità nei confronti della politica tutta c'è, ma non è infinita, ha detto ancora Umberto Uliano. Bisogna considerare l'importanza dell'edilizia per il Pil molisano. Per prima la regione ci dice che se si fermano le costruzioni si ferma l'economia del territorio, ma nonostante le parole si sta facendo poco per far riprendere il comparto con misure concrete, partendo appunto dal pagare le ditte che senza soldi non possono retribuire i dipendenti né programmare l'attività. Per Lance non servono più assunzioni di impegni generici, il tempo delle promesse è finito e i risultati non ci sono. Occorre far ripartire non solo le attività delle costruzioni in senso stretto, ha rimarcato Uliano, ma anche le 85 dell'indotto con impegni precisi e tempi certi per gare d'appalto e pagamenti. Diversamente, ha concluso, si deve prendere atto che si vuole la fine del settore e chi di dovere si assumerà la responsabilità di aver fatto fallire imprese e aver mandato a casa operai. Parliamo adesso della messa in sicurezza della diga dell'Iscione, del viadotto che attraversa il lago di Guardia Alfiera, un argomento tornato di attualità dopo le tragedie che hanno colpito l'Abruzzo. Sentiamo Giovanni Di Tota. Le immagini e le notizie della devastazione provocata dalla slavina che ha inghiottito l'hotel di Rigopiano hanno lasciato il segno nell'immaginario collettivo accanto alla tragedia reale. L'ipotesi di un nuovo vaiont ha creato il panico nella popolazione a valle della diga di Campotosto, una delle più grandi del continente. Un'ipotesi che di rimbalzo ha subito messo sul chi vive la popolazione alle spalle della diga dell'Iscione dal 2003 osservata speciale. ad ogni innalzamento fuori norma del livello del lago. Timori, la cui eco è arrivata fino in via Genova, da dove il commissario di Moliseacqua e Massimo Pillarella, nel tentativo di abbassare la tensione, ha finito con il rendere lo scenario un po' più inquietante. Nell'ambito delle risorse del patto per il Sud, si è esibito Pillarella in perfetto burocratese, c'è un intervento specifico che sarà attivato dalla Regione il prima possibile, che prevede una serie integrata di interventi per definire, ha aggiunto, una condizione di piena e totale sicurezza del sistema diga, compreso il completamento dei collaudi anche alla luce di nuovi criteri normativi. Tradotto significa che fino ad oggi in Isba il collaudo alla luce delle nuove norme non è stato fatto, il prima possibile non è stato quantificato in ordine al tempo che passa e che la condizione di piena e totale sicurezza della diga, stando alla dichiarazione di Pillarella, oggi non è raggiunta. Questo non vuol dire che la diga non sia sicura e lungi da noi ogni idea di voler creare qualsiasi tipo di allarme. È però opportuno dare risalto alla cortina fumogena che ogni 2x3 viene sollevata da funzionari e amministratori, ogni qual volta sarebbe necessario trovare un sostanzioso arrosto dietro al fumo. È tornato sulla vecchia idea di bypassare il viadotto che attraversa il lago di Guardia Alfiera, anche questo più volte oggetto di interrogativi sull'effettiva sicurezza, l'ex presidente della regione Giovanni Di Stasi. Un progetto, ha dichiarato, caduto nel dimenticatoio e che invece andrebbe riproposto come soluzione alternativa a quella dell'autostrada. Un tragitto possibile, ha proposto Di Stasi, per mettere in sicurezza la bifernina nel tratto fino al bivio di Lupara. Intanto la quantità di acqua fatta defluire a Valle della Diga è stata aumentata per consentire di tenere sotto controllo il livello del lago, ma non ci sono timori per la zona a Valle fino alla costa. L'assessore regionale Pierpaolo Nagni ritiene che la proposta di Di Stasi si possa prendere in considerazione. Intanto tornando alla Diga del Liscione resta sorvegliata speciale dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi che insieme allo scioglimento della neve hanno provocato l'innalzamento del livello dell'acqua. Durante una riunione di oggi in Prefettura a Campobasso i tecnici di Molise Acqua, d'accordo con la Protezione Civile, hanno deciso di aumentare lo scarico di fondo della Diga che da 80 è passata a 120 metri cubi al secondo. L'incremento più considerevole rispetto ai giorni scorsi ha fatto scattare l'attivazione del piano di emergenza e pertanto è stato diramato l'avviso di preallarme a forze di polizie e sindaci dei comuni più direttamente interessati. La Diga, rassicurano dalla Prefettura, è sotto costante stretto controllo. Intanto proprio dal Comune di Termoli fanno sapere di un vertice convocato in municipio dal sindaco in seguito alla comunicazione dello Stato di preallerta. È stato predisposto un piano di monitoraggio del territorio che durerà per tutta la notte fino a domani mattina. La frana che ha interessato il costone di Riovivo a Termoli per il momento, resta così il Comune, ha emesso un'ordinanza di messa in sicurezza con lavori urgenti a cui entro dieci giorni devono provvedere i proprietari dell'area. Intanto delle famiglie sono state sgomberate e ospitate in albergo. Sentiamo Manuela Iorio. La frana che ha interessato una parte del costone sabbioso che sovrasta alcune case di Riovivo a Termoli resta così. Il geologo Vito Plescia, incaricato dal Comune e che si è occupato dei sopralluoghi, ha consigliato di non toccare per ora la grande quantità di terra scesa su un'abitazione in particolare che l'ha resa inagibile. Per sicurezza anche le altre due case vicine sono state sgomberate e le famiglie per il momento ospitati in albergo a spese del Comune. Dieci persone in tutto, tra cui un bambino di un anno. Una sistemazione temporanea in attesa che si intervenga sulla frana. Il sindaco Angelo Sbrocca ha infatti firmato un'ordinanza di messa in sicurezza del costone che spetta però ai privati. L'area è infatti di proprietà di una famiglia che vive a Roma e a cui è stato notificato l'atto emesso dal Comune. I proprietari dovranno intervenire entro dieci giorni. Per ora dunque tutto rimane così e l'area è stata transennata. Non ci sarebbero rischi per le altre case che si trovano sotto il costone che a quanto pare proprio nell'area interessata dalla frana era stato scavato ulteriormente. Il geologo si è occupato dei rilievi sull'intera area che comprende a monte anche la scuola materna ed elementare di Riovivo. I genitori dei piccoli alunni preoccupati per un possibile cedimento del terreno in cui sorge la scuola che ha una vista mare mozzafiato si erano infatti allarmati nei giorni scorsi. Ieri sono stati anche ricevuti dal sindaco e dal geologo che ha assicurato che dai sopralluoghi effettuati sia il pendio sia la stessa scarpata non presentano problemi di stabilità conseguenti le piogge dei giorni scorsi. Ugualmente c'è scritto in una relazione tecnica non sono presenti fratture nel terreno che possano far pensare a nuove frane sia sul pendio che sulla struttura della scuola. Ricorso d'urgenza al Tar Molise contro l'ordinanza di chiusura al traffico emessa dalla provincia di Campobasso sulla provinciale 106 che collega alla stazione scistica di Campitello Matese. Lo hanno proposto tramite gli avvocati Luigi Patricelli e Luigi Iosa, i responsabili della DGA Funivie, società che ha in gestione gli impianti della stazione invernale e altri otto tra operatori turistici e commercianti. La strada è stata chiusa per rischio slavine. Nel ricorso si chiede al presidente del Tar un provvedimento cautelare inaudita altera parte. L'ondata di maltempo si sta lentamente allontanando ma a Campobasso restano i segni delle abbondanti nevicate sulle strade buche ovunque, in molti casi sono vere e proprie voragini che rendono pericolosa la circolazione. Dalla Comune assicurano che il manto stradale sarà ripristinato non appena le condizioni del tempo lo consentiranno. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Dopo i disagi provocati dalle abbondanti nevicate ore a Campobasso, il problema è rappresentato dalle buche presenti sull'asfalto. In molti casi si tratta di vere e proprie voragini che mettono a rischio l'incolumità dei pedoni, dei motociclisti ma anche dei mezzi in circolazione. Le proteste dei cittadini viperiti non mancano ma il sindaco Battista si è affrettato a chiarire che il manto stradale è stato danneggiato dal sale che è stato sparso per evitare la formazione del ghiaccio ma anche dai continui servizi di pulizia delle strade. Per il momento non è possibile eseguire nessun intervento perché occorre attendere il miglioramento delle condizioni del tempo per poter eseguire i lavori di rifacimento del manto stradale. Prestissimo, ha promesso il sindaco, appena le condizioni del tempo lo consentiranno, sarà possibile ripristinare il manto stradale per garantire agli automobilisti una viabilità più sicura. E poi il ringraziamento ai cittadini per la collaborazione dimostrata nel corso della lunga perturbazione che ha tenuto sotto scacco la città per due settimane sotto la pesante coltre bianca causando non pochi disagi. Il peggio è ormai passato ma prima che la situazione torni alla normalità occorreranno ancora molti giorni. Lungo i bordi delle strade ci sono ancora montagne di neve mista a ghiaccio che attendono di essere rimosse. Non mancano i problemi e le difficoltà soprattutto in prossimità degli edifici scolastici dove gli spazi per posteggiare le auto sono ridotti a causa della neve. Anche in questo caso dal comune fanno sapere che si sta lavorando per liberare del tutto le strade dai cumuli di ghiaccio. Insomma occorre armarsi di pazienza e di un pizzico di buonsenso e attendere che l'emergenza passi del tutto. La Confcommercio con il presidente Paolo Spina e con Domenico Venditti è intervenuta sulla presentazione del piano spiaggia al comune di Petacciato alla presenza del governatore Fratture e dell'assessore Nagni. Un momento importante hanno detto che ha visto l'assenza delle associazioni di categoria dei balneatori e nemmeno come invitati. Appare assurdo ha spiegato Spina che su un tema così importante per il turismo molisano sia considerato non necessario superfluo l'intervento dell'organizzazione di categoria più rappresentativa del settore quale Confcommercio Molise. Auspichiamo un confronto aggiunto e siamo pronti a fornire la nostra collaborazione alle istituzioni sui piani spiaggia dei comuni di Termoli, Campomarina e Montenero di Bisaccia attualmente in itinere. Alle elezioni provinciali la nostra lista ha fatto il proprio dovere. Il nostro candidato ha infatti preso più voti del previsto. Se problemi ci sono stati vanno ricercati altrove. Lo ha precisato il consigliere comunale di Isernia in comune Giampiero Mancini che ha voluto fare chiarezza dopo qualche mugugno che si è registrato nel centro-destra. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Continua a tenere banco il rinnovo del consiglio provinciale di Isernia. Il centro-destra ha ottenuto un buon risultato, è stato detto da più parti, ma si poteva fare meglio. Qualcuno non ha remato nella stessa direzione. Forse qualche voto in più doveva arrivare da Palazzo San Francesco, ma una cosa è certa. La lista Isernia in comune ha fatto il proprio dovere, ha precisato il consigliere comunale Giampiero Mancini. La lista di Isernia in comune aveva manifestato il voto nei confronti di un candidato, che era Gianni Fantozzi, lo sanno tutti. Gianni Fantozzi ha avuto anche più dei voti che si aspettava, quindi la nostra lista ha votato compatta il suo candidato. Quello che è successo poi nell'altra lista deve essere discusso all'interno della lista, ma sicuramente non è un problema che riguarda l'amministrazione comunale. Sicuramente qualcosa è successo, perché i numeri dicono questo, però ribadisco la lettura che si è voluta dare del comunicato fatto anche dall'amico Salvatore Azzolini è completamente distorta rispetto ai numeri, perché ripeto, il nostro candidato ha avuto tutti i voti che pensava di avere. Chiusa la partita delle elezioni provinciali, al comune si torna a lavorare per programmare una serie di interventi che consentano a Isernia di ripartire. Mancini, delegato al bilancio e alla revisione della spesa, ammette che le difficoltà non mancano, considerate le risorse esigue. Ciò nonostante qualcosa di buono si sta facendo. La materia contabile è una materia complessa, ma soprattutto è una materia carente in questo periodo, perché il comune dipende quasi totalmente da entrate derivate. Quindi proviamo a programmare con le poche risorse disponibili, cercando di fare qualcosa per questa città. Inizieranno i lavori per il parco della stazione, aspettiamo questo benedetto bando di riqualificazione delle periferie che prima o poi speriamo venga finanziato, perché i progetti sono stati approvati. Lavoriamo alla riscossione dei tributi con questa più che probabile adesione all'accordo quadro della Regione. Ci sono tante cose in cantiere che speriamo di sviluppare nei prossimi mesi. Corte di Strasburgo, niente figli senza legame biologico. La sentenza definitiva della Corte europea dei diritti umani riguarda il ricorso presentato nel 2012 da una coppia di Colle Torto contro la decisione. Nel Tribunale dei minori ritoglieri definitivamente il bambino, misura che secondo loro ha violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ma i giudici della Corte di Strasburgo hanno stabilito che se le autorità italiane avessero accettato di lasciare il bambino con la coppia, dandogli la possibilità di divenirne i genitori adottivi, questo sarebbe equivalso a legalizzare una situazione creata dalla coppia in violazione di importanti leggi nazionali, tra cui quella che regola le adozioni. La Corte di Strasburgo ritiene quindi legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare l'esclusivo diritto dello Stato di riconoscere una relazione genitori-figli solo in presenza di un legame genetico o di un'adozione legale. Deludente la sentenza della Corte di Strasburgo, così l'avvocato Luigi Coscia di Termoli, legale di fiducia della coppia di Colle Torto che presentò ricorso ai giudici europei dopo l'impossibilità sancita dal Tribunale dei minori di adottare un bambino nato in Russia da madre surrogata e quindi costretti a rinunciare al piccolo trasferito in orfanotrofio. Cambiamo argomento e andiamo a Riccia dove si è svolta la quarta edizione del Galà delle Nozze, un momento d'incontro tra le coppie di sposi ed esperti del settore del wedding c'era per noi Valeria Farina. I confetti, i fiori, le fedi e poi le fotografie, l'auto e segnaposto. Quando si organizza un matrimonio sembra non finire più la lista delle cose da organizzare. Per dare un'idea di tutto ciò che c'è da fare, al Galà delle Nozze che si è svolto nella sala ricevimenti ciocca dell'innesto Riccia Yelsi, espositori ed esperti del settore hanno incontrato le coppie in procinto di giurarsi amore eterno per dar loro consigli ed è in vista del grande giorno. Questo è il quarto anno che organizziamo questo evento particolare qui alla sala ricevimenti ciocca di Riccia. Siamo contenti di questo evento, di questa manifestazione. Non è il classico evento di fiera ma è un evento particolare perché abbiamo insieme alla sala ricevimenti ciocca organizzato questa cena e questo pranzo perché si tratta di sabato e di domenica dove gli sposi comunque visitano la location e partecipano a questo evento. Inoltre abbiamo anche una sfilata di alta moda sposi per cui il tutto diventa un evento particolare, molto simpatico. Le coppie di sposi non solo hanno potuto visitare i numerosi stand ma anche hanno potuto ammirare i capi d'alta moda spos e cerimonia messi a disposizione dall'atelier occhio nero di termoli e gustare i piatti nuovi studiati e realizzati dallo chef e padrone di casa Luigi Rauso. L'autenticità, la genuinità del prodotto è la vostra garanzia? È senz'altro perché siamo i proprietari e ci teniamo a fare bella figura. Non è che abbiamo lo chef dentro e dice vabbè oggi lo chef che ci prepara? No, sappiamo noi che cosa dobbiamo preparare perché ci teniamo per la materia prima e la cosa importante. Quando arriva una coppia che vuole appunto festeggiare da voi il giorno più bello della loro vita, quali sono i consigli che date? I consigli di fare un matrimonio un bello semplice e naturale. Novità, moda e ricercatezza per un'eterna promessa d'amore. È stato inaugurato a Termoli in via Ega di Il Bela Rio, il locale con cucina brasiliana è specializzato nelle grigliate di carne e può ospitare anche meeting ed eventi. Sentiamo. Luigi Chiucconi, amministratore della Bela Rio, si parte con questa nuova avventura, questa ciurascaria che nasce per la prima volta a Termoli, ma è una novità non solo per Termoli ma anche per il Molise e per le zone limitrofe. Certo, è un locale, un ristorante che abbiamo voluto ideare, creare, nato appositamente intanto dall'idea di alcuni amici e dalla volontà di voler fare qualcosa di diverso e nello stesso tempo mettersi in gioco su questo territorio, ma non solo. Una idea brillante è quella di portare musica brasiliana, soprattutto la tipicità della cucina brasiliana. Beh, sicuramente. La cucina brasiliana, che chiaramente è impostata prettamente sulla carne, quindi noi siamo organizzatissimi da questo punto di vista, abbiamo dei grill che ci siamo fatti venire appositamente per poter fare al meglio questo tipo di cucina e nello stesso tempo lavoriamo tutto sulle braci e lavoriamo tutte le carni con cammino a legna e braceri. Quindi le persone, quando si siederanno al tavolo, troveranno chiaramente i camerieri che arriveranno con delle spade, che sono degli spiedoni belli grandi, arriveranno al tavolo e porteranno le carni appena cotte, ancora bollenti, praticamente ai piatti dei commensali. Bella Rio è una struttura sicuramente polivalente, è una struttura che sicuramente ha delle peculiarità importanti, una frattante il baby park, perché chiaramente chi viene qui a mangiare ha dei bambini che hanno comunque voglia di divertirsi e quant'altro abbiamo la possibilità di farli stare tranquillamente con personale specializzato all'interno della struttura, con le innovazioni più attuali per farli divertire. Nello stesso tempo la struttura è anche destinata per poter fare tante altre attività che possono andare dalle convention, meeting. Ieri c'è stata l'inaugurazione, oggi martedì si parte già con la prima serata ed arriva un nome importante. Assolutamente sì, abbiamo una settimana abbastanza intensa, questa sera si esibirà sul nostro palco Oscar Gabriel Rosati, nonché trombettista del grande Carlos Santana con la sua band e proporranno una musica afro-latina-brasiliana, insomma qualcosa di abbastanza interessante. Domani ci sarà Willy Paco, grande percussionista e violinista cubano, insomma ci sono tante attività che nell'arco della settimana magari le persone che ci seguiranno sul Facebook o comunque sulla nostra pubblicità troveranno tante tante cose abbastanza interessanti. E tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS